Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In A1 in direzione Roma, tratto chiuso per lavori fino alle 18 di oggi tra Pian del Voglio e Aglio. Sul raccordo Siena-Firenze è chiusa per lavori l'uscita di Poggi Bonsi Sud provenendo da Siena. Per quanto riguarda i treni, a seguito della segnalazione di alert del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi, la circolazione dei treni oggi sarà sospesa nella tratta tra Marradi e Feenza sulla linea Faentina. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!